De localizzazioni recenti di aziende importanti come l'Honeywell che ha avuto come conseguenza il licenziamento di 500 persone, il caso dell'Atrea di Sant'Atto, 55 posti di lavoro persi, l'Ipersimpli di San Nicolò con 53 dipendenti trasferiti in altre regioni, l'Abruzzo rappresenta una vertenza nazionale. Senza lavoro non c'è nessuna alternativa, lo sostiene la segreteria provinciale teramana di Sinistra Italiana che ha organizzato un incontro pubblico a Teramo con politici ed esperti per affrontare questa emergenza occupazionale. Un incontro pubblico in città a Teramo per ribadire che senza lavoro non c'è alcuna alternativa. Sì, organizziamo questo evento come Sinistra Italiana perché vogliamo rimettere al centro i temi del lavoro e dell'occupazione. Per noi non c'è nessuna alternativa che sia politica, economica, sociale o culturale se non si rimettono al centro i valori del lavoro, la dignità, la pienezza dei diritti. Perché noi ci troviamo in un territorio, in una regione, in un'Italia, in un'Europa che umilia il lavoro, lo svaluta, permette delle localizzazioni, comprime i diritti. Lo vediamo anche sul nostro territorio, abbiamo visto dai licenziamenti dell'Atria fino alla chiusura dell'Ipersimpli di Piano Daccio. Abbiamo una crisi del lavoro, una difficoltà importante che noi dobbiamo rimettere al centro. Non c'è Sinistra senza il lavoro. Per Sinistra Italiana pagare il prezzo più alto di questa cronica assenza di lavoro sono soprattutto i giovani. La situazione dell'occupazione in provincia di Teramo è grave, è difficile come tutta l'Italia e in particolar modo noi, le regioni centrali del Mezzogiorno. La precarietà dilaga, vediamo benissimo che non c'è opportunità di un lavoro stabile, pieno, buono e ben retribuito. È una crisi che investe tutti i settori ed è da lì che si può ripartire per invertire la rotta. Intanto Sinistra Italiana annuncia di essere pronta a correre alle prossime elezioni regionali con una propria lista e con un proprio candidato presidente, in polemica aperta con l'ex governatore D'Alfonso. Per le europee è possibile invece che il partito aderisca al movimento del sindaco di Napoli, Luigi De Magistris.